propone olio a mare ma ti stai zitto ma porco il dio è stato zitto e quindi arriva a lui arriva a tuta ragazzo hanno ammazzato uno della democrazia cristiana vicino a casa mia chi lo ha chiuso a nemmasciare un po lo zio di armando eh si no ciro cirillo ciro cirillo hai l'editore del greco ciro 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 le brigate rosse armando armadillo questo giro mi fa vengare ciro 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 di insigni ma cosa ioillas con percheo E' appilato i chili della connessione Ciro Cirillo, basta Ciro Cirillo ti punta il coltello, cosa fai? Fai un rinno in faccia Ciro Cirillo Ma vedi, appena l'ha nominata e l'ha fatta dalla connessione In che senso la bimba? Ciro Cirillo Certo, io penso solo la storia della luna Ma che cazzo fai gavarti Ciro Cirillo C'è il gol, c'è il gol Armando Armandillo Ma che seconda, la 20 Secondo me i Ciretti Ciro Cirillo e Cretti I Ciretti Ma che cazzo sporchi, ma questo ragazzo c'è morto C'è un figlio che ce l'ha senza parte Riesco a prenderti sul serio E' morto oggi a Napoli Ciro Cirillo Ah perché infatti è cresciuto da voi Ha sentito da lui Faermicola L'attirata contro mio padre Vi dirò Viglio di più Aggressivo proprio Troll Fugliato L'attacca E'etydoodle E' no E' no E' notala Inroversata un uomo ma che c'è stato ma questo già urla così tanto in cano ma i vicini poveretti ma mi sa che non nessun vicino mi sa no però si c'è io i vicini però si andò all'attrata della casa ma che vicini ma tre giorni dicendo dall'ascensione ho fatto passi io passi tu e zack ti hanno ascoltato armandola ha accoltato la signora dell'ascensore avete qualcosa da dirvi no mi aiuta con la spesa per favore e prende la spesa prende il pandoro una forchetta dentro la panza ma cosa la rivedete ragazze la rivedi ragazza il mario gente che ha perso la vita e quando voi scherzate qua non c'è ragazza ma poi della coltelli la coltelli prima di passare non è che passi da volte che finito tutto la coltelli ma voglio ma le dinamiche non è che si stanno bene cioè ah, i miei fratelli diciamo è uno ah, come siete? come siete? come siete? eh, sono napoletano e sto napoletano di Impoletano e soprattutto ma non c'è 1 io nel maggior e poi è molto molto importante che cosa vuoi fare avrà 4 ma su che ti ricordi vedo ti è un po mo Iuri sera? Iuri sera? Enzo! Oh! Un'esplosione Pagdad Ma tu stai giocando la VL o no? Io? Ok, no io 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 Che cazzo vuoi? Si C'è la voce che gli arriverà dopo due anni E c'è il ritorno di voce, non capisci il cazzo Oh dimmi quando senti questa frase Stai giocando la VL? Va bene Basta, non io lo chiederò mai più No, comunque non penso Oh dimmi quando senti sta cazzo di frase Adesso Ma che cazzo? Adesso 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 io lo sento subito stai giocando a VL aspetta dimmi cosa senti questa frase no ok no va bene va bene z oh raga lo stavo tirando in mezzo puma eh via si sa che ci sbatte fuori è proprio lui è proprio lui è fuori è fuori da stesso eh no è un giallo è un giallo ah non era ammonito prima è vero vediamo se gli due fanno un cervello e vediamo gli ha dato in fuori gioco gli ha dato in fuori gioco io non ho parole ragazzi io l'ho dato apposta io l'ho dato apposta se li riesco a tirare fuori un video su proflam non ho dato apposta non ho dato apposta che a quell'altro pure che gli va in fuori gioco che non ha un'altra è bello per pensare per non ci deve andare ooooh no mamma no mamma che sei dovuto fare comunque se prendiamo gol figa tu mi hai irrabbiato da questa squadra non parla eccolo lì no cazzo via alza come cazzo di rigore come cazzo di rigore ragazzi no non ci siamo non ci siamo non ci siamo proprio autosia des non lo so no questa è colpa di marco eh questa è colpa di marco e nessuno gli dice un cazzo io questo qua gli ho scritto che sgozzo come un capretto non mi fa ridere armando chi sei Ninio ma tu sai dirmi tu che sei comunque sei una diabla sai dire la differenza tra diabla e chica mala allora una diabla è proprio una ribelle la chica mala invece è quella che ogni tanto è incontrollabile no non so se si può fare una diabla invece io sono una diabla però io adoro i ragazzi cichimali di che vi stai parlando? non me ne fai un cazzo vai a te non fai un cazzo basta lamentarti dei problemi vai fuori fuori non è un pericordio madonna madonna è pure frocio è pure frocio ma comunque perché è cattivere zitto porco dio zitto vattene via 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 altra via 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 e morto e morto immobile che morti immobile dalla coltellati non ci credo che è morto immobile nooo ma l'hanno coltellato ragazzi l'hanno coltellato lì in piazza ma fra ma non ci credo che c'è un'altra ma sveglia ma veggi è morto ciro immobile art o malavolo ma tirate in mezzo a qualcun altro ragazzi ma fra ma ci svegli ma bro ma ciro hai capito ciro chi è ciro immobile 17 è morto ma bro ma che cazzo ma bro ma che cazzo stai dicendo adesso guarda adesso vado di là ho appena configurato alexa e glielo chiedo allora guarda vado alexa immobile è morto per quanto ne so ciro immobile è nato il 20 febbraio 1990 è morto ragazzi è morto come ma scusami non hai aggiornato rive non hai aggiornato non hai aggiornato per quello scusami ma scusami ma non è possibile ma perché sta storia di tirare in mezzo sul ciro immobile è morto poco fa questo potrebbe rispondere alexa è morto ha detto scusami è morto ha detto è morto è morto è morto è morto no 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 ma ii holy il mondo napoletano si è stretto attorno a questo gravissimo lutto cosa mamma mia ravebbero l'alto ecco E' incredibile, è incredibile. Alexa, Alexa, primo mobile è morto poco fa. Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Alexa, stop. No, Alexa. Alexa, primo mobile è morto poco fa. Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Alexa, stop. Oh, cavallo. Alexa, tiro immobile. E' morto poco fa. Sì, il mondo napolitano si è stretto attorno a questo gravissimo giusto. Eh, senti, è morto. E' morto. Ma però, ma te, ma te credo che io non sappia che si è morto poco fa. Oh, ma questa roba. Questo potrebbe rispondere alla tua domanda. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, stop. Alexa, stop.